Scusate. Vieni, Olimpia. Claudio. Sì. Cammina molleggiando. Bene. Molleggiando sui fianconi. Finalmente sei venuto. Posali la roba. Osham, vuoi? Ti presento Caroline, la mia segretaria. Sì. Andrete, Michi. Ma vorrei parlarti da sola. Allora, I'll wait here. Compia il busto. Ecco. Adesso vieni al telefono. Lenta, eh. Scusate. Ma non correre, che cosa coppia? Come ne do? Mi sarò rimbambito, ma i conti... He's calling you. Finalmente sei venuto. Tira un po' la testina di... Ma... Bravo, Olimpiona. Ti presento Caroline, la mia segretaria. Luisa, stop. I'm glad to meet you. Ma vorrei parlarti da sola. Luisa, stop. Allora, I'll wait here. Luisa, stop. Luisa, stop. Luisa, stop. Luisa. Luisa, stop. Luisa, stop. Luisa. Grazie a tutti.